Benvenuti, siamo in compagnia del dottor Pietro Adduci, CEO di Tecma Solution, tech company quotata sul mercato, operativa nel settore digital, marketing e comunicazione per il business del real estate e dell'avvocato Andrea Tessitore, presidente di Creare Digital, società che investe in operazioni di trading, sviluppo e riposizionamento immobiliare. L'argomento di cui parliamo oggi è la partnership strategica tra Tecma e Creare Digital per la digitalizzazione dei mutui ipotecari. Una domanda per lei, nel corso degli ultimi mesi Tecma ha annunciato delle partnership strategiche con Immobiliare.it e appunto con Creare Digital, Qual è la strategia alla base di questi accordi e come vi aspettate che contribuisca alla crescita di Tecma? Buon pomeriggio a tutti. Siamo una tech company che si occupa di sviluppare soluzioni tecnologiche principalmente basate sul software ideali per accelerare i tempi di vendita e di affitto di operazioni immobiliari. Lo scopo, diciamo così, di una società che sviluppa tecnologia è quella di aprirsi a componenti di terze parti, diciamo così, quindi riuscire ad integrare delle collaborazioni e delle soluzioni tecnologiche esterne. Arriviamo a questo punto dopo un biennio di forti investimenti, ci siamo quotati appunto nel 2020, dal 2021 al 2023 abbiamo dato vita a delle forme di investimento appunto per sviluppare tecnologia. Adesso siamo in una fase di maturità della tecnologia stessa e a un certo punto è necessario aprire a terze parti appunto. Quindi fare in modo tale che altre tecnologie possano accedere a dei dati per esempio presenti sulla nostra piattaforma. Da qui la collaborazione insomma con principali gruppi italiani, immobiliare.it appunto collaborazione annunciata qualche mese fa, grazie a questa partnership industriale è possibile far comunicare le due piattaforme per riuscire a mettere a disposizione di chi sviluppa immobili molti più dati di come si poteva fare prima. Dall'altro lato appunto il mondo dell'accesso al credito in questo momento storico ecco è un po' meno facile di prima e da qui insomma l'ideare una collaborazione per esempio con Creare Digital. Creare Digital nasce appunto come piattaforma pensata per far accedere al credito più facilmente gli utenti finali e in questo caso, al mutuo alle soluzioni finanziarie, in questo caso abbiamo pensato di integrare le nostre tecnologie che consentono di vendere delle case a delle soluzioni tecnologiche che consentono di ottenere più facilmente il mutuo per gli utenti finali, per chiunque ha acquistato per esempio una casa. E da qui ancora una volta l'apertura alla piattaforma Creare Digital con l'opportunità per chi acquista casa nei progetti che sono seguiti da Tecma Solutions di ottenere più velocemente con delle condizioni economiche particolarmente vantaggiose per esempio un mutuo. E da qui insomma l'idea di giungere a una partnership industriale sia con immobiliare.it che con Creare Digital. Una domanda per l'avvocato testitore. Come nasce la partnership tra Creare Digital e Tecma? In cosa consiste e quali obiettivi si pone nel medio termine? Buon pomeriggio, grazie. Una piccola precisazione, sono il fondatore e presidente di Creare Group che è una società di trading e sviluppo immobiliare che opera principalmente su Torino e Milano e che controlla Creare Digital, società regolarmente iscritta a OMAM di mediazione del credito che si occupa di trovare le migliori soluzioni di mutui ipotecari sul mercato. Nello specifico la partnership nasce perché noi siamo l'operating partner, il partner locale di un grande fondo di investimento estero che sta sviluppando nel centro di Torino la più grande operazione immobiliare che è di circa 12 mila metri quadrati. Proprio su questa operazione abbiamo avuto l'opportunità di conoscere e lavorare con Tecma Solutions che ha l'obiettivo proprio come giustamente ha accennato lei digitalizzare il mondo del real estate e più specificatamente rendere più veloce e snello il percorso anche di acquisto di un appartamento con riferimento specifico alle nuove costruzioni. Lavorando insieme ci siamo resi conto che avevamo noi in casa una società e a loro mancava, c'era un vuoto in questo magnifico percorso di digitalizzazione che era proprio l'ultimo elemento che era quello di poter permettere all'acquirente nella sua pagina dedicata del nuovo sviluppo nel caso specifico palazzo contemporaneo a Torino di avere anche l'offerta del miglior mutuo presente sul mercato. Miglior mutuo, attenzione che a rispetto a quelli a cui siamo abituati a trovare online dei classici comparatori alla differenza di essere studiato su misura per quel singolo progetto e quindi offrire oggettivamente il miglior prodotto e il più competitivo che si trova sul mercato. Quindi diciamo che questa partnership che è nata lavorando insieme ci ha permesso di partire, di annunciarla pochi mesi fa, pensate che Tecma che è leader nelle nuove costruzioni ha una pipeline molto importante già di operazioni che verranno commercializzate nel prossimo triennio e di queste ce ne siamo stati già capaci di assicurarcene, ci hanno già deciso di partecipare a questa operazione dell'on configurator con 2000 appartamenti che utilizzeranno questo strumento per offrire agli acquirenti il miglior prodotto di mutuo sul mercato. Ora una domanda per entrambi, iniziamo con l'avvocato testitore. Quali sono i principali vantaggi per il cliente, per i developer e come si concretizzano nell'attuale contesto di mercato? I vantaggi, partiamo dai vantaggi per il cliente, sicuramente il comprare casa, ottenere un mutuo è una fronte di grandissimo stress. Attualmente quando si vanno a comprare appartamenti in nuove costruzioni si consultano i comparatori online o ci si recca nella filiare di riferimento dove è situato il conto bancario dell'acquirente. Nel caso specifico invece, come già accennato precedentemente, saremo in grado di offrire online sulla piattaforma, quindi sul sito che si occuperà di commercializzare l'operazione nello specifico, di avere dei prodotti di mutuo offerti dai nostri partner bancari che sono stati selezionati e che controllano una grossa fetta di mercato dei mutui con un'offerta fatta su misura. Cosa vuol dire su misura? Vuol dire che rispetto a una classica ricerca in un comparatore standard presente digitalmente oggi, nelle nostre operazioni, quindi quelle che utilizzeranno il loan configurator, andremo dalle banche partner e chiederemo di studiare il miglior prodotto legato all'edificio specifico e quindi in grado di personalizzare a un punto tale che sarà difficile poter essere più competitivi con dei prodotti che invece generalmente sono più generici. Parlando invece per i developer, il vantaggio per il developer è fondamentale, naturalmente uno sviluppatore, un investitore, ha tra i suoi punti più importanti quello del tempo, vendere il più velocemente possibile porta ad avere dei rendimenti migliori e anche a generare maggiore cassa in tempi ridotti. Quindi è nel forte interesse di chi sviluppa operazioni utilizzare questo strumento o qualsiasi altro strumento in cui Tecma è davvero leader sul mercato per velocizzare quello si dice la sales velocity, cioè la velocità di vendita, di uscita dei singoli appartamenti. Infine mi chiedeva come si concretizzano questi vantaggi nel contesto di oggi, quello attuale. Come sappiamo veniamo fuori da un anno, il 2023 è stato un anno dove c'è stato un forte calo dei mutui ipotecari per chi acquistava case ancora oggi, ci troviamo di fronte rispetto a quelli che erano i tassi di alcuni anni fa con dei tassi di riferimento che sono piuttosto alti. Quindi il ricorso a questo strumento è stato meno utilizzato, è un dato oggettivo, lo dicono i fatti. Tuttavia nelle operazioni di nuovo sviluppo, visto che le operazioni di nuovo sviluppo rispettano anche tutti i parametri di classe energetica rispetto ambientale e tutti gli altri parametri richiesti anche dalla comunità europea, ecco che le banche possono, come dicevamo prima, spingersi a fare i migliori tassi rispetto a quello che è, per esempio, acquisire un edificio usato in classe energetica bassa. Quindi concretamente questo strumento permette di portare sul mercato dei prodotti che in un contesto difficile di tassi alti sono quelli che hanno il miglior tasso e la migliore convenienza per l'acquirente. Insomma, sintetizzando, è un prodotto naturalmente che, essendo anche online, utente centrico e che quindi ha l'obiettivo di facilitare, porre al centro del processo chi acquista un appartamento e in questo caso renderlo win-win perché si trova allineato con le volontà dello sviluppatore, dell'investitore che ne accelera il processo di vendita. Sentiamo adesso il parere del dottor Adduci. Quali sono i principali vantaggi per il cliente e quali quelli per i developer e come si concretizzano nell'attuale contesto di mercato? Bene. L'attuale contesto di mercato non è dei più semplici per il mondo dell'immobiliare, del real estate, da qualche anno a questa parte perlomeno. Ci sono stati almeno un paio di fenomeni in concomitanza che non hanno facilitato più in generale sia le compravendite sia lo sviluppo di nuove operazioni immobiliari. Tutto parte con un incremento dell'inflazione, l'incremento dell'inflazione ha chiaramente portato un incremento dei costi di costruzione e questo ha frenato, da un lato, lo sviluppo di nuove operazioni immobiliari. Chiaramente costa di più costruire. Il fenomeno parallelo in concomitanza con l'incremento dell'inflazione è stato l'incremento dei tassi di interesse che a sua volta ha generato un incremento del costo per accedere al mutuo, banalmente, insomma, per tutte le famiglie. Questi due fenomeni sommati, quindi l'incremento del costo di costruire e quindi dei prezzi delle case e dall'altro lato l'incremento del costo di un mutuo, banalmente della rata del mutuo, ha fatto sì che ci fosse un rallentamento anche delle compravendite, l'abbiamo letto su tutti i giornali, ecco, meno per il nuovo che il mercato in cui operiamo noi, anzi, alcune città principali come Milano e Roma addirittura, insomma, hanno beneficiato, soprattutto in alcuni momenti dell'anno, anche di una carenza di offerta e quindi il mercato del nuovo è stato comunque molto resiliente, però in generale c'è stata una difficoltà maggiore delle famiglie per accedere al prodotto casa. E da qui l'opportunità di pensare a una soluzione tecnologica che facilitasse l'accesso al mutuo per chi compra casa, per esempio, ecco, sui progetti in cui ci sono le nostre tecnologie, il vantaggio principale è che diventa molto più semplice ottenere una proposta di mutuo, banalmente, ecco, dalle principali banche italiane che poi sono coinvolte poco prima di un atto di mutuo e quindi è più semplice il processo, grazie alla tecnologia, per arrivare al mutuo e allo stesso tempo è più vantaggioso anche dal punto di vista economico perché ci sono delle condizioni dedicate, ecco, molto vantaggiose a chi acquista casa su un processo totalmente digitale. Quindi questi due sono i principali vantaggi, la velocità con cui si può ottenere una preventivazione per un mutuo e dall'altro lato l'opportunità economica perché è particolarmente vantaggioso. Dottor Adduci, secondo lei che ruolo avranno le nuove tecnologie nel settore immobiliare, in particolar modo l'intelligenza artificiale e che ruolo avrà Tecma in quest'ambito? Bene, io potrei sembrare di parte ma in realtà, ecco, l'evoluzione tecnologica che sta invadendo un po' tutti i campi penso che sia sotto gli occhi di tutti. Quindi la risposta breve sarà determinante. Noi ci occupiamo di tecnologia in questo settore esclusivamente verticale, molto verticale, dal 2012. Oggi forse è un po' più semplice immaginare di associare la tecnologia anche al settore immobiliare ma assicuro che una decina di anni fa non era così immediato. Quindi in tempi non sospetti abbiamo iniziato questo percorso e oggi riteniamo di aver accumulato sufficiente expertise e sufficienti dati, visto che Tecma sviluppa operazioni in tutto il mondo, siamo leader di mercato in Italia e in questo settore ma anche in altre parti del mondo e quindi abbiamo accumulato sufficientemente expertise per immaginare di dare il nostro contributo nel guidare anche l'innovazione all'interno di questo settore. Quindi il contributo di Tecma attivo immaginiamo di continuare insomma ad innovare e che sia determinante. Più in generale se lo guardiamo dal punto di vista tecnologico ecco le novità sono tante che hanno pervaso un po' tutte le industrie negli ultimi anni. Pensiamo per esempio al settore dell'e-commerce ecco pensare di acquistare una casa online sembra futuristico in questo momento vi garantisco che non lo sarà fra tre anni. Quindi è solo una questione tecnologica il cliente è assolutamente maturo dipende da quanto tempo impiegheremo anche noi ad avere delle interfacce utente talmente semplici da poter far acquistare anche direttamente online. Quindi se proprio dovessi sbilanciarmi abbiamo sicuramente il ruolo dell'e-commerce che invaderà anche questo settore il che non vuol dire banalizzare l'interazione umana che sarà ancora determinante ma vuol dire dare molta più possibilità all'utente di essere autonomo nel fare delle scelte anche online. Dall'altro lato citava l'intelligenza artificiale è un altro chiaramente punto di attenzione mediatica in primis da almeno un anno a questa parte un anno e mezzo a questa parte e quindi sarebbe ingenuo pensare che non sarà dirompente anche l'introduzione dell'intelligenza artificiale all'interno di questo settore. Noi la utilizziamo tutti i giorni allo stesso tempo diciamo da tecnici e quindi esperti di settore mi sento un attimo di ridimensionare il contributo che può dare nel breve periodo. La stiamo utilizzando per esempio nella nostra quotidianità un po' in tutte le aree aziendali e quindi anche chi acquista casa la sta utilizzando ma ancora una volta non c'è nessuna minaccia per l'operatore qualificato la minaccia è per chi non imparerà ad utilizzare se vogliamo questi strumenti. Quindi come tutte le tecnologie non ha mai sostituito l'operato umano a tutti gli effetti ne succederà nel brevissimo per l'intelligenza artificiale. Grazie per questa delucidazione molto chiara nonostante la complessità dell'argomento. Grazie a voi. Grazie.